Buona giornata, buona giornata ancora e ben ritornati qua negli studi di Teleradiopace con la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa e naturalmente abbiamo bisogno di un regista con noi ogni mattina e c'è oggi Alessandro Bavestrello e anche di un aiuto dalla redazione oggi abbiamo con noi Andrea Capitani, quindi oggi poi vedremo anche Andrea in diretta e ci parla anche di una cosa importante è venuta ieri, comunque lo sentiremo. Oggi è il 18 di luglio, quindi inizia così la terza settimana del settimo mese del 2022 e naturalmente inizia con un gran caldo, questo è abbastanza normale per questo periodo, non è che dobbiamo dire ah chissà che caldo è incredibile per essere luglio, perché comunque luglio ci ha abituato a grandi ondate di caldo quest'anno sono ondate di caldo senza fine, ci hanno dato proprio qualche possibilità di respiro la settimana scorsa proprio nello scorso weekend è arrivata non diciamo aria fresca però sicuramente un po' meno calda, un po' meno affosa delle settimane precedenti, è durato il tutto 4-5 giorni abbiamo detto c'è stato un arrivo anche inaspettato dell'anticiclone della Zorra che però poi ha dato di nuovo il passo all'anticiclone africano e questa settimana dovrebbe essere la settimana di picco del caldo, poi siccome l'estate è ancora lunga non possiamo dirvi che sarà la settimana più calda di tutto l'anno, certamente per il momento sarà l'estate più calda di tutto l'anno, finché non ce ne sarà una più calda di questa quindi sicuramente questa settimana ci dobbiamo aspettare nuovamente temperature molto alte e già le abbiamo viste ieri sopra i 34 gradi, addirittura a Genova si parla di 37 gradi che è una temperatura molto alta per il capoluogo Ligure e poi dell'umidità e continua questa fase soprattutto siccitosa del tempo che la siccità invece ci sta tenendo compagnia dall'inizio dell'anno, quindi settimo mese di siccità sul nord Italia con chiaramente gravi problematiche andiamo a vedere allora le temperature minime registrate la scorsa notte che sono state temperature piuttosto elevate soprattutto sulla costa, sulle alture, soprattutto in quota 1785 metri le temperature alle 4.36 hanno raggiunto i 15.2, il punto più basso sui 1785 metri del Monte Bue 16.1 a Rocca Davito e 14.8 a Rifugio Casermette del Penna temperature piuttosto basse rispetto anche alle alture, più basse ancora per Rezzo Aglio con 14.4 e 14.8 a Cabanne di Rezzo Aglio poi scendendo invece temperature al di sopra abbondantemente dei 21 gradi 22.2 a Caselli di Borzonasca, 22.6 a Belpiano e 22.6 anche a San Sirofoce 24.3 addirittura alla minima a Pontori, molto molto elevata perché dopo i 24 gradi si può parlare di temperatura elevata, notturna che in Liguria non ci dovrebbe nemmeno essere perché solitamente traduzionalmente la Liguria ha delle temperature minime abbastanza basse 21.6 a Favale di Malvaro, 25.4 addirittura a Pianti e Preti di Tribogna 20.1 a Pezzonasca di Meoconisi, 25 gradi anche a Villoneto quindi è chiaro che in alcune località c'è un microclima un po' particolare però insomma avere 25 gradi di minima vuol dire avere una notte molto molto calda come è accaduto anche a Santa Margherita con addirittura quasi 26 gradi 25.7 sul porto, 24.6 sul lungomale di Rapallo 24.7 sul porto di Chiavari e nella zona interna 23.4 23 gradi al porto di Lavagna e 25.9, quasi 26 gradi alla secca di Monelia quindi temperature minime davvero molto elevate cosa succederà nel pomeriggio? Beh le temperature saliranno abbiamo detto anche fino ai 35 gradi quindi davvero caldo alla Spezia una minima di 26.6 a Genova Nervi 26.7 Genova davvero è la città più calda della Liguria una volta era Imperia e adesso invece è diventata Genova e questo per effetto soprattutto del surriscaldamento al suolo quindi diciamo dell'inquinamento atmosferico a Genova in alcune zone non si è scesi sotto i 26 gradi stanotte 26.2, questa è veramente una temperatura molto molto elevata che non è da Liguria veramente addirittura chiaramente questa è un po' da prendere con le pinze ma Savona si parla di 28 gradi di minima cioè siamo davvero a una situazione di caldo intensissimo 26 gradi ad Imperia e 25.2 a Sanremo quindi se nemmeno di notte si riesce a respirare bene capite bene che la situazione diventa molto pesante come di consueto noi vi diamo quelli che vi danno tutti i consigli che vi danno tutti cioè di evitare assolutamente di uscire nelle ore calde da oggi nei prossimi giorni picco di questa settimana dovrebbe essere mercoledì 20 luglio però è chiaro che anche queste sono previsioni sono tendenze quindi non abbiamo raggiunto ancora le quote più elevate e vedremo che cosa succede però nella stessa situazione in cui è la Liguria addirittura lo sarà il nord Europa parliamo addirittura di Regno Unito di isole appunto britanniche dove le temperature normalmente d'estate non si alzano mai oltre 23-24 gradi addirittura sono previsti 36 gradi a Londra però è chiaro sono temperature davvero estreme che siamo abituati ormai a vedere perché in alcuni casi soprattutto qua in Italia ormai le medie stagionali si sono alzate ma si stanno alzando di anno in anno e in Italia questa settimana non sono escluse temperature anche intorno ai 42 gradi per dirvi come siamo ridotti come ci siamo ridotti va bene allora questa è la situazione meteorologica adesso non vogliamo facciarci la testa perché poi più diciamo che è caldo più sentiamo caldo in questo momento sto sudando perché parlando di queste temperature così alte aumento anche il mio sentore del caldo quindi forse meno se ne parla meglio è però bisogna sempre veramente dire a parte gli scherzi che è necessario mettere in atto in questa settimana tutte le cosiddette come quando c'è un allerta meteo quando si dice piove non uscite non posteggiate vicino ai corsi d'acqua in questo caso bisogna dire attenzione insomma veramente soprattutto le persone che sanno di avere delle patologie o che comunque sono un po' in là con gli anni insomma evitiamo davvero le ore più calde che purtroppo sono tante perché non sono solo le 15, le 16 del pomeriggio sono dalle 11.30 della mattina fino alle 19, 20 perché comunque essendo ancora una stagione in cui il sole tramonta molto tardi le temperature poi scendono lentissimamente ieri sera appunto avevamo 29 gradi intorno alle 23 su Chiavari quindi capiamo che sono temperature un po' eccessive Sant'Emiliano Martire della Mese oggi si festeggia questo apostolo della fede nel 362 quindi parliamo dei primi secoli del cristianesimo poi San Bruno di Segni vescovo e ancora San Federico di Utrecht vescovo tra il 1825 e il 1828 auguri a tutti coloro che oggi festeggiano questi santi appunto che abbiamo citato auguri a coloro che oggi hanno una lieta ricorrenza un anniversario o che oggi compiono gli anni in questo 18 di luglio e noi ci dedichiamo naturalmente adesso all'informazione informazione che arriva dall'Italia e dal mondo sui quotidiani nazionali come sappiamo insomma il lunedì non c'è non c'è il settimanale avvenire che di lunedì mattina non esce e quindi ci affidiamo al Corriere della Sera l'edizione online e andiamo a vedere gli scenari della crisi perché siamo anche in crisi di governo oltre tutte le varie emergenze che dobbiamo affrontare Draghi programma blindato e governo senza conto e questo è diciamo lo scenario che stanno preparando i leader politici poi bisogna vedere Draghi che cosa ne pensa veramente di questo se vuole essere diciamo così un po' anche quasi il martire di questa situazione oppure vuole defilarsi e tornare ai suoi antichi lavori trattativa segreta sui ministri c'è ci sono tanti retroscena poi c'è addirittura si parla della Woodstock dei tormenti dei 5 Stelle pentitevi vi sputeremo addosso dopo 30 ore di riunione non è ancora finita i segnali dei pro Draghi che temono di essere tagliati fuori ci sarebbero 30 almeno 30 tra senatori e deputati che sono pronti a passare dall'altra parte se il governo 5 Stelle le confermerà la sua sfiducia a Conte ma una dei falchi del Movimento 5 Stelle in questo momento è la Raggi appunto la ex sindaca Virginia Raggi di Roma che è tra i falchi cioè tra quelli che vorrebbero assolutamente vedere il governo Draghi finire e questo perché ci sono delle politiche romane anche legate al governo e insomma ci sono anche delle situazioni che è meglio sempre anche non indagare troppo poi Giannini l'uomo che creò la banca più grande del mondo dando prestiti ai non ambienti sappiamo che Giannini ha delle radici proprio sul nostro territorio e arrivava proprio dal nostro introterra dalla Fontana Buona insomma dal Tiguglio figlio di poveri immigrati italiani il visionario che fondò Bank of America e c'è stato il forum Giannini a ricordarlo proprio all'inizio dell'estate poi una notizia che è un po' dell'inquietante perché quando succedono queste cose non si capisce mai se chi è al potere sta avendo anche un po' troppo potere forse Zelensky caccia il capo degli 007 ucraini e la procuratrice generale quindi non due persone qualsiasi per sospetto tradimento e poi il sondaggio segreto del criminino tra i giovani russi crolla il consenso per la guerra ma è talmente segreto che lo sa il Corriere della Sera quindi lo pubblica anzi il pugile Leonardo Muratovich ucciso per uno sguardo movì da violenta sul litorale romano il giovane accoltellato aveva 25 anni lite in un locale suo padre aggredisce due butafuori ed è stato arrestato poi da Modena Adriano scomparso sul cammino di Santiago la madre ditemi chi è il ragazzo con lui una situazione che ha un po' molti aspetti misteriosi però pare che non sia una scomparsa volontaria tanto per capirci ma non si sa fino a che punto volontaria o a che punto invece è stato obbligato mistero sulla morte a Firenze dell'ex reggbista Bibei forse un gioco erotico finito male e poi il latitante l'evaso Massimo Riella catturato in Montenegro a tradirlo l'errore fatale dell'amante complice e poi naturalmente tante altre notizie che arrivano da tutto il mondo e notizie anche di sport perché comunque lo sport non si ferma mai e poi c'è questa notizia strana si tuffano alla fontana di Trevi i vigili urbani intervengono e lo fanno uscire poi anche un'altra sparatoria nell'Indiana Stati Uniti appunto lo vediamo qui sparatoria appunto nell'Indiana quattro morte tra cui il killer due persone ferite e appunto in un centro commerciale quindi la persona che ha aperto il fuoco era un cittadino armato ma anche colui che l'ha ucciso e che ha evitato eventuali altri morti e poi ancora trasportava 11 tonnellate di armi mistero sull'Antonov Ucraino precipitato in Grecia anche su questo insomma non sappiamo bene se si andrà fino a fondo oppure si si dimenticherà un po' questa notizia però dell'inquietante cioè 11 tonnellate di armi che stavano viaggiando sui cieli in quel momento della Grecia poi per un un diciamo guasto oppure per qualcos'altro l'aereo è precipitato con una grossa esplosione del fumo che ha anche intossicato alcuni soccorritori e poi non si capisce queste 11 tonnellate partite di armi molto pericolose partite da Belgrado dirette forse al Bangladesh ma perché poi fosse un un aereo ucraino insomma ci sono veramente tanti interrogativi su questa notizia ma passiamo alla prima pagina del secolo XIX con la festa di giovanotti qua si parla di questo giova beach party l'ippodromo di Villanova dal Benga accolto senza intoppi i fans dell'artista che per 10 ore ha trasmesso musica ed energia 20.000 sotto il sole una tribù che balla ha anche diciamo così celebrato matrimonio lo faceva anche nel scorso giova beach party questa volta due ragazze chiaramente non si è dato di un matrimonio ma di un'unione civile solennemente festeggiata e poi c'è la notizia della crisi di governo trattata diciamo vedete il titolo su giovanotti e guardate la notizia sulla crisi di governo vabbè questa è la scelta editoriale del secolo oggi lega e forza italia avvertono draghi fuori 5 stelle o subito al voto incontro salvini berlusconi e poi alta tensione tra i grillini movimento 5 stelle assemblea fiume ma senza decisione conte perde altri pezzi e però il titolo principale della prima pagina perché la prima pagina è questa sì c'è giovanotti ma c'è anche il caldo con notti record in Liguria si parla di 25-24 gradi ma abbiamo visto Savona con i 28 gradi che sarebbe veramente una temperatura davvero incredibile se fosse confermata dai dati ufficiali dell'Arpal perché quello che noi vi leggiamo sono le stazioni della Limet poi quelle che fa invece letteratura sono i dati dell'Arpal le letterature le temperature roventi sono all'origine dell'anomalia dei fenomeni l'incendio sopra Sestri Ponente il blackout a Bergeggi poi non parla il secolo di tanti paesi ormai del Ponente che hanno diciamo così interrotto l'erogazione di acqua la notte invece qua si parla di sciacchettrà lo sciacchettrà vola dalle 5 terre alla navicella spaziale l'annuncio di Alenia è ancora scoperta a Genova c'è la cura post-covid per recuperare l'olfatto perduto e ancora il caso di Rapallo che festeggia la spiaggia libera della passeggiata mare migliaia e appunto sul lungomare sabato sera e poi ancora dal secolo XIX si parla di sport c'è la Sampdoria intervista col vicepresidente della Sampdoromei Samp vero affare noi la rinforzeremo così quindi sappiamo che la società è ancora in vendita è ancora in attesa di avere nuovi padroni ci sono tante trattative e nel frattempo quelli che sono restati a gestire la società dopo Ferrero stanno tentando di rinforzarla insomma di renderla un po' più forte sul mercato per renderla anche più appetibile entriamo nel secolo XI perché ci sono notizie di cronaca un bambino sviene a punta chiappa e poi un tennista invece è stato colpito colpito da infarto entrambi diciamo entrambi i fatti di cronaca che sono accaduti ieri hanno avuto comunque un buon fine nel senso che è una fine abbastanza tranquilla perché nessuno dei due ha perso la vita e nessuno dei due in questo momento è a rischio della vita il caso del piccolo ora verrà studiato naturalmente dai medici del Gaslini per capire per quale motivo il piccolo è svenuto si parla di caldo però ragazzi non è che il caldo possa giustificare lo svenimento di un bambino di 7 anni insomma un po' grave e l'uomo di 68 anni salvato con il defibrillatore stava giocando a tennis evidentemente lui sì che poteva aspettare magari un giorno un po' più fresco per farlo i primi temporali non bastano soccorsi a causa delle temperature comunque sono malori che stanno accadendo e le temperature sicuramente stanno peggiorando la situazione questo lo sappiamo benissimo sono la con causa però ci sono sicuramente altre cause in entrambi i casi sono arrivati veramente in maniera molto molto veloce i soccorsi sono riusciti a salvare queste due persone l'uomo che giocava a tennis è stato soccorso dalle stesse persone con cui stava giocando e sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Cogorno che erano presenti sul posto perché in assenza in assistenza ad un torneo vicino quindi ecco anche quello è stata una buona una buona diciamo combinazione o comunque appunto una situazione favorevole l'uomo è stato stabilizzato poi accompagnato in codice rosso all'ospedale successivamente ricoverato all'unità coronarica mentre il bambino appunto adesso è al gaslini di Genova per accertamenti ma sta decisamente meglio purtroppo un malore anche ha colpito due sub ieri a Santa Margherita a Ligure la prima ragazza ad essere soccorsa ragazza insomma donna di 39 anni giovane ma non ragazza scusate donna di 39 anni originale di Verona soccorsa dagli altri membri del gruppo dei responsabili fortunatamente era già sulla barca di ritorno pochi istanti dopo pure il suo istruttore anche gli originari di Verona come tutto il gruppo è stato colto da un malore quindi adesso bisogna indagare sul perché due persone della stessa immersione sono state male dopo essere riemersi quindi capire un po' le cause di questa situazione però entrambe le persone adesso non sono più in pericolo di vita questo è importante dirlo e poi ieri diciamo si sono ormai conclusi tutti i festeggiamenti in onore di Madonna del Carmine il Carmine era sabato 16 luglio naturalmente però molte feste sono state rimandate la domenica successiva cioè il giorno dopo e si sono svolte appunto anche ieri quindi domenica sabato grande festa a Lavagna ieri grande festa a Sesto Elevante e c'era anche il nostro Andrea Capitani e quindi chiediamo a lui com'è andata questa festa del Carmine a Sesto Elevante buongiorno Andrea si Marco buongiorno buongiorno a tutti diciamo che si sono concluse nelle diverse comunità della nostra diocesi le feste in onore di nostra signora del Carmine iniziate sabato a Castiglione Chiavarese alla presenza del Vescovo poi la messa di Civitù davanti al mare a Lavagna per la nostra signora del Carmine e poi domenica tre almeno le comunità che hanno festeggiato la nostra signora del Carmelo Cornia a Val Fontana Buona nel pomeriggio a Nozzarego a Santa Margherita Ligure e la mattina ha visto il Vescovo presente a Sesto Elevante si è iniziato con la Santa Messa delle Nove che è terminata poi con la grande solenne processione che mancava ormai da due anni si è potuta svolgere nuovamente mancata perché le restrizioni della pandemia non permettevano di farlo è tornata a percorrere le vie di Sestri Levante l'arca processionale di nostra signora del Carmine che nel frattempo è stata anche restaurata una grande processione che si svolta al mattino sotto il sole coccente che ha raggiunto nostra signora di Nazareth Santa Maria di Nazareth in penisola in Baia anche qui c'è stata la messa poi il ritorno sempre a Santo Stefano del Ponte una comunità che si è preparata a vivere questo momento con una novena che è stata molto partecipata come ci ha confermato lo stesso parroco Don Marco Torre che abbiamo intervistato e vediamo anche le immagini appunto della processione che ha sfilato per le vie di Sestri Levante vediamo il servizio e poi la linea torna allo studio Dio ci mette in cammino più che essere colui che conserva la nostra vita la mette in viaggio ed ecco il senso un po' della novena avremmo voluto non tanto dire vogliamo ritornare all'esperienza degli anni passati finalmente si può vorremmo sentire che cosa oggi Dio ha voglia di suggerirci per metterci in viaggio un viaggio che si fa anche concreto con la processione che ritorna anche con la statua restaurata durante il lockdown un modo per ritrovare e farsi vedere anche in mezzo alla gente sì il restauro della statua che è stato fatto ed è certamente ha reso questa immagine un'immagine molto significativa però vogliamo essere anche noi un po' restaurati abbiamo fatto il viaggio infatti in questa novena proprio in questo modo abbiamo preso l'ascolto del Vangelo di Luca dove il messaggero del cielo il messaggero di Dio va prima nel tempio cercando uno spazio di ascolto ma lì trova l'esistenza nei riti del tempio con il sacerdote Zaccaria fa fatica e allora va dentro una storia d'amore lontana dal tempio entra in una casa ed ecco l'annuncio che entra nel cuore e nella vita nella storia d'amore fra Maria e Giuseppe a Nazareth lì abbiamo raccolto un segnale che forse di oggi più che stare dentro un po' le nostre forme un po' statiche ha voglia di entrare dentro le cose della nostra vita specialmente nelle nostre storie d'amore e proprio lì abbiamo voluto ascoltare che cosa Dio suggerisce oggi all'uomo contemporaneo nella propria storia d'amore quale percorsi infatti abbiamo preso come sostegno al nostro cammino il testo del Papa Francesco a Moris Letizia naturalmente le feste del Carmine sul nostro territorio che come ci ha detto Andrea sono state celebrate in diverse comunità parrocchiali avremo poi gli altri servizi nel corso della nostra giornata delle nostre giornate anche successive a questa naturalmente nei nostri appuntamenti informativi questa estate non ci sta facendo mancare nulla quindi insomma siccità temperature elevate di qua e di là guerra l'abbiamo visto Ucraina eccetera e poi anche il Covid il Covid sono in crescita i contagi e i ricoveri in realtà nell'ultima settimana i contagi sono stati un po' meno rispetto a settimana precedente però si parla di un picco che arriverà forse nei prossimi giorni poi dovrebbe esserci una decrescita si spera 36 posti letto occupati negli ospedali mentre il contagio continua a correre e mentre aumenta anche il numero delle persone ricoverate da questa settimana il Tigulio scatta la campagna vaccinale per gli oltre sessantenni a partire da questa mattina sarà possibile prenotare la somministrazione e da domani invece cominceranno le vere e proprie iniezioni intanto negli ospedali di Sesti Levante e Lavagna sono ben 36 quindi sono aumentate di un terzo le persone ricoverate a causa del virus 4 in più rispetto a 24 ore prima solo una ricoverata in terapia intensiva allora andiamo adesso invece a parlarvi di qualcosa di bello di bello da andare a vedere lungo le nostre colline si parla delle Rocche di Sant'Anna sulle alture di Sesti Levante Rocche di Sant'Anna la gita di Sesti Levante con panorami mozzafiati che unisce storia e natura un viaggio del secolo XIX alla scoperta dei percorsi naturalistici più belli del nostro territorio arriva a Sestri un'altra volta si è andati su Punta Manara adesso dalla parte opposta cioè verso Lavagna appunto queste Rocche di Sant'Anna con questo sentiero messo nuovamente in diciamo così in sicurezza totale perché aveva subito chiaramente vari danneggiamenti a parte del maltempo dalla riva del mare sino a 360 metri circa 134 ettari diverse opzioni queste sono un po' le cose offerte da questo fantastico sentiero che appunto corre lungo un tracciato antico dove c'erano appunto la chiesa di Sant'Anna molto probabilmente il vecchio percorso che poi portava verso Cavi di Lavagna perché non c'era la strada litoranea quindi è chiaro che molto probabilmente questi antichi sentieri adesso vengono percorsi per vedere per guardare questi meravigliosi paesaggi ma in realtà una volta erano proprio le strade principali dove si svolgeva il vero e proprio traffico allora sui nostri sentieri della colline a volte incontriamo degli animali anche selvatici come gli ungulati come i cinghiali però sempre più spesso i cinghiali stanno anche invadendo i centri abitati in questo caso vediamo una notizia che arriva dal dal sito della Repubblica Genova 76 anni attaccato da un cinghiale finisce in ospedale successo non chissà in quale altura le alte vie Liguri è successo in via Campodonico a Bolzaneto quindi quasi in centro a Genova ormai l'uomo è stato portato in codice giallo al Villa Scassi pochi giorni fa il caso della donna morsa sulla spiaggia di Sturla e molti comuni soprattutto quelli dell'immediato introterra si lamentano dell'invasione proprio di ungulati per esempio appunto è il caso del sindaco di Casarza Ligure che vuole un'offensiva vera e propria contro i cinghiali contrasto alla presenza dei cinghiali e rifiuti appello del sindaco di Casarza Ligure allora ascoltiamo il suo appello e sentiamo quali sono le diciamo così anche soluzioni che intravede a questo problema voglio fare un appello innanzitutto possibilmente di rispettare i giorni di conferimento perché noi abbiamo un sistema agevole rispetto ad altri comuni non c'è un portaporta spinto non c'è la tariffa puntuale c'è un sistema di isole di prossimità però va rispettato il calendario perché altrimenti ci troviamo delle situazioni spiacevoli stiamo già intervenendo da una parte grazie anche all'impegno della Dox Lanterna e anche della cooperativa Pelicano Verde con dei maggiori interventi sul territorio per la pulizia soprattutto delle isole di prossimità nelle frazioni dove siamo più colpiti dall'altra stiamo anche sanzionando perché è importante dare un segnale abbiamo fatto ultimamente oltre 400 sanzioni per conferimenti scorretti di rifiuto un'altra cosa che sembra banale ma non lo è la presenza sul territorio di topi scarafaggi e tutti quelli che sono quegli animali che durante l'estate soprattutto sguazzano sulla spazzatura e non parlo anche dei cinghiali su cui stiamo intervenendo anche grazie a un impegno regionale anche qui stiamo facendo un intervento straordinario di deratizzazione disinfestazione e per quanto riguarda i cinghiali abbiamo anche contattato l'ambito locale di caccia e non solo abbiamo contattato anche la regione perché è un problema che sta diventando non solo di igienico sanitario ma di ordine pubblico anche di sicurezza comunque c'è il rischio anche per chi si mette in strada di incontrare questi animali esattamente ripeto quindi è un problema non solo igienico sanitario ma anche di ordine pubblico perché di notte soprattutto vanno verso le isole ecologiche dove trovano il cibo causano anche degli incidenti ad oggi non ne abbiamo avuti ma mi hanno segnalato grosse problematiche anche di viabilità per questo scorazzare di cinghiali ungulati e caprioli che soluzioni si stanno pensando di adottare per limitare anche la presenza di questi animali intanto io invito veramente la cittadinanza a non foraggiare i cinghiali soprattutto nelle zone urbane quindi io poi sono anche disponibile a mettere un'ordinanza ad hoc e questa sì perché ci sono le necessità perché nelle zone urbane i cinghiali non ci devono stare ora c'è la questione della peste suina che ha colpito anche la nostra zona e quindi sono previsti degli abbattimenti più corposi dovuti anche al fatto che questa malattia causa delle problematiche vediamo a seguito anche di questo intervento se la situazione sarà migliore rispetto ad oggi quindi siccità covid cinghiali guerra eccetera però insomma è un'estate che ha anche un aspetto molto positivo cioè il fatto che diciamo saranno temperature caldissime però dall'altra parte spinge milioni di persone ad andare al mare anche le persone che magari erano tuttitubanti non sapevano ma chissà che insomma stanno prenotando per un posto sulle spiagge sui litorali e soprattutto sulla riviera Ligure quindi è un'estate davvero da record e anche i Liguri che sono dei mugugnoni per definizione stanno dicendo che questa è una stagione ottima come non se ne erano viste addirittura nell'era pre-covid quindi immaginiamoci un po' che tipo di veramente impatto ci sia in questa estate quindi non solo chiaramente alberghi ma anche ristorazione commercio eccetera un'estate record per il turismo in riviera hotel sempre pieni previsioni ottime anche per il mese di agosto e quello di settembre parla anche il presidente regionale di federalberghi Verdini finalmente l'economia è ripartita siamo oltre più oltre ogni più rose aspettativa addirittura quindi davvero c'erano tante attese per questa stagione ma stanno addirittura andando ben oltre dopo due anni di restrizione il Levante sold out sono tornati gli americani tanti stranieri molti italiani tutto esaurito nel weekend ma anche boom di pre-portazione comunque adesso insomma si assesta anche la presenza durante la settimana quindi qualcosa di buono sta succedendo anche gli eventi alla grande sono partiti in tutte le città anche a Recco Italia Mundial successo a Recco per la serata raccontata da Federico Buffa lo spettacolo che è inaugurato gli eventi estivi prossimamente arriveranno Max Gazze Dorighezzi Noemi insomma tante persone tante personalità e tanti eventi nell'estate di Recco come in quelle di tante altre cittadine come Rapallo che addirittura ha fatto registrare il tutto esaurito nella serata di sabato con la festa per l'inaugurazione della spiaggia libera vediamo tante persone sul lungomare questa inaugurazione della spiaggia che poi subito è stata utilizzata nel giorno successivo cioè ieri quindi questa è la nuova spiaggia delle Saline inaugurata la spiaggia a migliaia di persone il sindaco così tanta gente soltanto per le feste di luglio ora ne realizzeremo altre non di spiagge perché chiaramente finisce il litorale ma di feste sicuramente se ne possono fare tante altre festa anche per l'equipaggio di Sesti Levante che ha vinto il Palio Marinaro 2022 il Palio Marinaro del Tiguglio tradizionale competizione remiera sui gozzi è arrivata alla sua sessantaduesima edizione di questo parleremo naturalmente nelle prossime diciamo nei prossimi appuntamenti informativi e poi vi daremo anche tutta la radiocronica registrata dell'evento e poi street art nella scuola di Cogorno i ragazzi al lavoro insieme a Gojo Murales all'interno e all'esterno con progetto della preside Vetrugno e abbiamo parlato degli appuntamenti di Reco che ci sono stati nelle serie precedenti ma vediamo gli appuntamenti di oggi nella nostra scheda nella nostra agenda lunedì 18 luglio Lavagna rende omaggio a Vittorio Gasman alle 18 in Piazza Marconi con lo scrittore Bruno Gambarotta il giornalista Mauro Boccaccio il regista Antonio Farisi il vignettista Davide Sacco e l'attore Lorenzo Scarpino in occasione della festa patronale di Santa Margherita alle 21 sul sagrato della Basilica concerto della Filarmonica Cristoforo Colombo diretta da Alessandro Cardinali Blues and Soul Festival propone Anders Osborne Fit Soppertown Home alle 21 al teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante all'auditorium ospitalia del mare di Levanto alle 21 e 30 concerto di violino barocco di Fabrizio Cipriani accompagnato dalla voce di Lorenza Cevasco dal violoncello di Nathanel Cipriani e dal cembalo di Tiziana Canfori sul sagrato della chiesa di San Michele di Pagana alle 21 e 30 Federico Rampini proporrà una riflessione dal titolo Suicidio Occidentale perché ha sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori è uno degli incontri della rassegna sotto il campanile E attenzione questa sera per la chiusura del tratto compreso tra Lavagna e Chiavari sulla 12 quindi tutte le auto in circolazione su questa autostrada in direzione Genova verranno fatte uscire al casello di Lavagna e poi attraverso la viabilità urbana rientrare a quello di Chiavari questo dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina per quanto riguarda invece le previsioni meteo non abbiamo veramente molto da dire abbiamo speso tante parole sul meteo che adesso andiamo veramente veloci come delle lepri per dirvi che saranno belle giornate caratterizzate da cielo sereno poco nuvoloso temperature piuttosto elevate e qualche diciamo fase instabile nel corso del pomeriggio sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Medio Levante venti che inizialmente della Nord ruoteranno poi dai quadranti meridionali con un nuovo ritorno della Nord in serata mare generalmente poco mosso localmente mosso a largo del bacino occidentale nelle ore centrali e temperature in aumento oggi avremo fino a 35 gradi stessa cosa domani domani addirittura l'instabilità pomeridiana sarà ridotta a Lumicino soltanto sulle Alpi Liguri con venti deboli e moderati da Nord tra la notte e il mattino poi deboli e meridionali mare generalmente quasi calmo e temperature stazionali insomma per chi è in vacanza è la situazione ideale in assoluto quindi buone vacanze a coloro che lo possono lo possono fare buon lavoro e buona settimana a tutti per coloro che appunto continueranno il loro tram tram quotidiano l'informazione ritorna anche alle 12.45 voglio ringraziare Alessandro Bavestrello che ha curato la regia e Andrea Capitani in redazione e darvi all'appuntamento domani mattina alle 7.30 da parte di Marco Revello quindi un saluto e a domani a domani a domani a domani a domani per la Hunger